Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che permette l'ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato. Mettilo in agenda, fai valore alla tua domenica, consulta l'elenco completo dei siti aderenti all'indirizzo www.beniculturali.it Domenica al Museo è un'iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Grazie a tutti.